Musica Facce scure al Consiglio regionale all'indomani della notifica di 57 avvisi a comparire per l'indagine sui rimborsi facili e gruppi rappresentati in assise. Ancora curiosità e retroscena dall'inchiesta. Occhiali, giocattoli e dolciumi tra le spese al centro dell'indagine. Con quegli stessi soldi c'è chi avrebbe pagato anche una bolletta della Tarsu. Diplomi facili per calciatori e attori scoperte due scuole fantasma nel Cilento. Si tratta di istituti paritari dove si pagava fino a 5.000 euro per conseguire la maturità senza mai frequentare le lezioni. Arrestati i titolari degli istituti, denunciate 132 persone. Blitz nelle classi, deserte, non c'era neanche un alunno. Avrebbero indotto la nota showgirl Sara Tommasi a girare scene hard del film Confessioni private dopo averle fatto assumere sostanze stupefacenti. L'episodio in un hotel di Buccino nel Salernitano. Il produttore e l'organizzatore arrestati con l'accusa di violenza sessuale. 59 milioni di euro, appena 4 in meno rispetto alla clausola rescissoria con questa offerta il Paris Saint Germain sarebbe oramai ad un passo dall'acquisto di Edinson Cavani. Procuratore del Bomber e Club avrebbero anche trovato l'intesa. Mancherebbe soltanto il sì di De Laurentiis. Buon pomeriggio, ben trovati a un nuovo appuntamento con la nostra informazione di metà giornata. Allora, ovviamente tiene ancora a banco l'inchiesta che ha portato ieri alla notifica nell'aula dell'assise regionale a 57 avvisi di comparizione per altrettanti consiglieri regionali. Praticamente quasi tutta l'assise, eccezione fatta per un paio di componenti del piccolo gruppo del PSE. Poi tutti indagati, tutti chiamati in qualche maniera a giustificare delle spese. Spese per gli inquirenti abbastanza leggere, in molti casi si parla di bibite, vini, regali, giocattoli, tinture per capelli, addirittura acquistate da un consigliere che di capelli non ne ha affatto. Ora bisogna capire quanto è possibile giustificare rispetto a quella che è la normativa che vigeva prima che fosse modificata. Ed è stato fatto proprio nei giorni in cui la finanza cominciava a fare i primi accertamenti. Che cosa prevedeva questo regolamento che consentiva di poter effettuare determinate spese giustificandole a metà tra la capacità istituzionale e quella politica. Vediamo intanto l'inchiesta quale retroscena ci riserva oggi. Alla fine tutti guardavano verso il portone che dà accesso all'edificio F12 del centro direzionale. Anche perché non sono pochi quei consiglieri che su blog o social network rivolgendosi ai colleghi di Assise domandavano e si domandavano ma secondo voi quanti ne arrestano a questo giro? Un giro che fa calcolare 2 milioni di fondi regionali bruciati per ristoranti, alberghi, regali agli amici, perfino giocattoli per bambini. Denaro pubblico utilizzato per fini strettamente privati. Epilogo dell'inchiesta Rimbor Sopori che ha visto ieri mattina la finanza bussare alle porte della casa del Consiglio regionale per notificare 57 inviti a comparire per altrettanti consiglieri o capigruppo di tutti i gruppi politici presenti nel grattacielo. Restano fuori solo gli unici due esponenti del piccolo gruppo del PSE. Ma tra gli indagati figurano anche tre politici che da marzo siedono in Parlamento. L'accusa è delle peggiori per le cariche che occupano. Peculato, sotto la lente del PM Giancarlo Novelli, del procuratore aggiunto Francesco Greco, l'impiego dei soldi del cosiddetto Fondo per il funzionamento dei gruppi regionali. Soldi che, al di là di ciò che serve a far funzionare letteralmente il gruppo, sarebbero serviti per questioni più strettamente private. Dai conti del ristorante all'acquisto di giocattoli per figli e nipoti. Tra i pochissimi a non essere investiti dallo scandalo, il presidente Stefano Caldoro. Tra i consiglieri che avrebbero intascato più soldi ad aver giustificato di meno, c'è Gennaro Salvatore, presidente del gruppo Caldoro Presidente, nuovo PSI. Tra le note spesa di Salvatore ce n'è una su tutte, 203 euro per la tintura dei capelli. Dalle cifre, in un elenco stilato dal consulente della procura, Paolo Barba, è stata stilata anche una speciale classifica che vede in testa come percentuale di uso ritenuto ingiustificato e privatistico del denaro, IDV Eudeur e a seguire nuovo PSI di Salvatore, ancora PDL e PD. Il blitz era nell'area da mesi e fa seguito all'indagine parallela che ha per oggetto l'uso del denaro del fondo comunicazione che ha portato anche all'emissione di diverse misure cautelari. Tre i parlamentari, consiglieri regionali semplici all'epoca dei fatti contestati, l'Ischitano Domenico Desiano e la salernitana Eva Longo, entrambi in quota Popolo delle Libertà e Umberto del Basso De Caro, già capogruppo in regione per il Partito Democratico. Anche per loro l'ipotesi di reato è peculato. Insomma, la domanda della prima ora è e resta. Come sono stati impiegati i soldi per il funzionamento dei gruppi consigliari regionali? In soldoni parliamo di quasi 2 milioni e 400 mila euro di soldi pubblici, erogati fino all'agosto dell'anno scorso e che solo in parte sono stati giustificati. In realtà quello che emerge è che, quando l'inchiesta ha cominciato a prendere corpo, c'è stata una corsa da parte di tutti a cercare di giustificare in qualche modo le spese e tutti hanno setacciato scontrini e fatture per farne delle pezze d'appoggio. Ed ecco emergere kit per la tintura dei capelli, giocattoli, gioielli, farmaci, cialde per il caffè, necrologi e perfino la spesa da consegnare a casa e pacchetti di gomme da masticare. Ma ci sono pure assegni per un importo complessivo di un milione e mezzo di euro che non si sa come siano stati spesi e che sarebbero stati attribuiti direttamente ai consiglieri regionali della Campania finiti sotto inchiesta e che in questi mesi non hanno smesso di guardare il portone d'ingresso e chiedersi quanti ne arresteranno a questo giro. C'è una nota rispetto a questa inchiesta del governatore della regione Campania Stefano Caldoro lo ricordiamo, lo abbiamo detto già nel servizio uno dei pochissimi a non essere toccati da questa indagine assieme ad altri due esponenti della PSE che siedono nel Consiglio regionale. La regione Campania ha fatto, ha detto Caldoro, in questa consigliatura atti concreti dimezzando i fondi ben prima della normativa nazionale che ha riformato su scala nazionale il sistema. Anche le risorse assegnate dalle precedenti amministrazioni e ha aggiunto il Presidente della Giunta regionale erano tra le più basse in Italia. Questo Consiglio regionale, ha detto ancora Caldoro con un'azione che ha visto protagonisti tutti i gruppi in piena sintonia con la Presidenza del Consiglio ha garantito il cambio di regole verso la piena trasparenza mai fatto nel passato, ha aggiunto ancora il governatore sì, allora tutti i controlli necessari sono certo, ha chiusato che il Consiglio saprà dimostrare la propria correttezza. Torniamo adesso ai numeri dell'inchiesta perché la Procura della Repubblica si abbassa di un commercialista un consulente nominato proprio per cercare di fare le pulce agli scontrini e alle ricevute che sono stati poi alla fine quando sono cominciati i controlli delle fiamme gialle consegnati agli investigatori e ha stilato questo consulente una speciale singolare classifica. Leggono molti quotidiani, sono attenti all'igiene e alla salute ma non disdegnano le cene, il buon vino e i dolci è il ritratto dei capi gruppo del Consiglio regionale della Campania che emerge dalla consulenza del commercialista Paolo Barba cui il PM Giancarlo Novelli ha chiesto di analizzare il rendiconto delle spese per il funzionamento dei gruppi rendiconto che sono tenuti a depositare i soli capi gruppo e non i consiglieri che pure hanno ottenuto la maggior parte dei fondi dopo aver esaminato scontrini e fatture il consulente della Procura ha preparato un dossier per ciascun gruppo consigliare materiale che assieme a quello sequestrato ed elaborato dalla Guardia di Finanza costituirà la base delle future valutazioni della Procura il PDL per esempio nel 2011 ha speso 3400 euro per i giornali e 11.000 euro per bar e pasticceria è di 35 euro lo scontrino di un'enoteca mentre 190 euro sono serviti per ripianare un furto dalla cassa con tanti il gruppo del nuovo PSI ha speso denaro pubblico per giocatto, gli occhiali da vista farmaci, articoli da regalo e sportivi CD, DVD, sigarette, abbigliamento in questo caso 314 euro prodotti per la cura e l'igiene della persona 203 euro di cui 3 per un flacone di tintura per capelli il PD sempre nel 2011 ne ha spesi altri 3000 per Big Fish la festa dei giovani democratici che si è svolta a Salerno alla società Chidea che organizza campagne pubblicitarie sono andati 30.000 euro diverso il caso dell'IDV dove il 95% dei fondi sono stati elargiti direttamente ai consiglieri e dunque il capogruppo non ha potuto giustificare alcuna spesa e se come vi abbiamo raccontato i volti sono piuttosto oscuri preoccupati rispetto agli esiti di questa indagine in consiglio regionale c'è anche chi ostenta tanta tranquillità tanta sicurezza rispetto al fatto che si saprà e si potrà giustificare ogni centesimo speso ma comunque dice ovviamente che se sarà accertata anche una minima responsabilità chi ha commesso quel determinato reato chi ha speso quei soldi impropriamente pagherà personalmente lo ha detto il presidente del consiglio regionale della Campania Giovanni Romano sentiamo parliamo del consiglio regionale della Campania parliamo del consiglio regionale più virtuoso d'Italia parliamo di un consiglio regionale che da quante si è insedata questa amministrazione nel 2010 ha trovato un bilancio di 86 milioni di euro l'ultimo bilancio del consiglio invece quello del 2013 cioè per il funzionamento del consiglio regionale siamo scesi a 56 milioni di euro quindi un risparmio di 30 milioni di euro in tre anni di amministrazione un tempio non sospetto e ci tengo a chiarirlo prima che iniziassero tutte le intagini che stanno riguardando probabilmente il consiglio regionale con la legge Campania a zero riducemmo questo capitolo del 50% detto ciò dico che anche un solo euro speso in maniera non attinente a quello che dovevano essere le attinenze di queste spese va condannato con forza e va innanzitutto però verificato e accertato se ci sono dei soggetti che hanno speso i soldi pubblici per fini non attinente a quello che che recuperavano spese istituzionali o spese riguardanti la politica vanno condannando ci può fare chiarezza su questa cosa cioè limite di spesa rispetto al fondo del funzionamento dei gruppi cioè anche quando riguarda spese politiche molto spesso c'è la cena la cena politica la cena istituzionale ci può chiarire un pochettino questo fondo che cosa può fare io ritengo che c'era un vuoto sotto questo aspetto per quanto riguarda l'attinenza e la concludata delle spese che ha riguardato secondo me tutti i consigli regionali perché dico questo perché poi quando è stato approvato il 174 poi trasformato in legge a dicembre del 2012 si è sentito la necessità forte di definire con puntualità e con contezza quali erano diciamo i criteri per cui questi fondi potevano essere utilizzati quindi vuol dire che una mancanza in termini legislativi prima c'era quindi di regolamento se è vero che sono comparse foglie di carta 4 con dei timbri sopra con dei giustificativi di spesa insomma non sono scontrini ripeto io ritengo che rispetto a questo io non posso rispondere perché non lo so c'è un'indagine in corso quindi non posso sapere uno come ha utilizzato i fondi io dico che se sono stati utilizzati in maniera sbagliata e terrate ripeto anche un solo euro va condannato chi ha usato questo tipo di atteggiamento mentre invece chi avrà la possibilità io di questo mi fa piacere anche per la scelerità che voglio premettere una cosa noi siamo stati sempre abbiamo avuto sempre un atteggiamento di grande disponibilità e di collaborazione con la magistratura escludi al momento il riverbero politico di tutta questa vicenda ma assolutamente sì perché mi sono sentito sia con il presidente Caldoro mi sono sentito anche con tutti i capi gruppi non mi sembra che ci sono le condizioni per ragionare su una questione del genere Paolo Romano ovviamente non Giovanni Romano che è assessore la giunta Caldoro come avevo erroneamente lanciato questa intervista torniamo al consiglio regionale ieri nel pomeriggio si è tenuta una seduta dell'assise ovviamente a tener banco era la vicenda del giorno questa bufera giudiziale all'ennesima che si è scatenata e che ha travolto il palazzo all'isola F14 del centro direzionale abbiamo raccolto un po' di pareri sentiamo quasi tutto il consiglio regionale coinvolto in questa inchiesta cos'è una sbagliata interpretazione della legge possiamo dirla anche così ha centrato con questa sua dichiarazione il motivo evidentemente ci sta un'interpretazione diciamo differente tra la magistratura e il consiglio regionale questo è un consiglio regionale che si è rinnovato per 45 sessantesimi quindi sono 45 consigli regionali che si sono adeguati attenuti a quello che era la legge preesistente se dovevamo ridicondare avremmo ridicondato la legge ci diceva di ridicondare ma non credo che ci sia persone che non abbiano speso questi soldi per quelle che sono le attività legittime del gruppo in le sue articolazioni quello che sta emergendo rispetto a regali cose del genere pensa ci sia stata qualche leggerezza di qualche suo collega ma se c'è stata evidentemente va perseguita perché non possono essere utilizzati i fondi per quelle che sono le attività politiche istituzionali certamente per parrucchieri o affini o cose del genere io penso per esempio non voglio sminire il dato si parlava anche di tinture comprate con i soldi dei fondi sui giornali sull'ansia di stamattina ma in realtà che sia qualche capo di segreteria o qualche donna che collaborano nelle segreterie che abbia messo qualche sbaglio qualche fattura però lo immagino perché non penso tra le altre cose il consigliere diciamo attenzionato su questa questione è anche calvo quindi voglio dire non vedo che quale tintura poteva farsi giusto per non banalizzare partiamo dalle parole del procuratore Colangelo ha detto questa inchiesta ha molto equilibrio e dà la possibilità a tutti gli indagati di poter dimostrare che cosa hanno realmente fatto se è stato fatto qualcosa io devo dare atto davvero per averlo vissuto sulla mia pelle anche del garbo col quale la guardia di finanza si è recata nei nostri uffici stamattina ed è molto importante soprattutto quando si è ancora nella circostanza di un'indagine conoscitiva questo darà la possibilità a tutti i consiglieri di presentarsi alle autorità preposte che stanno indagando di farlo in tempi veloci e anche questo è un elemento di garanzia importante per noi e di raccontare ciò che è stato fatto per sostenere la propria attività istituzionale in questi anni il numero degli indagati è importante è presumibile che qualcuno qualche ingenuità chiamiamola così l'abbia commessa allora o ingenuità o leggerezze o forzature quando si tratta di denaro pubblico sono assolutamente censurabili chi sta dentro le istituzioni a qualsiasi tipo con qualsiasi funzione ha un dovere in più rispetto ai cittadini normali che sono fuori dall'istituzione rendi contare avere trasparenza molto probabilmente dovremo recuperare un ritardo antico di queste e di altre regioni che non hanno saputo negli anni dotarsi di un regolamento che fosse più stringente su ciò che era possibile sostenere e ciò che non era giusto e doveroso e utile sostenere in quella voce ampia che sostegna l'attività istituzionale non è che ci sia un riflesso politico di tutta questa vicenda ma l'ho detto anche prima a qualche suo collega è evidente se questa indagine porterà alla luce che c'è un malcostume diffuso e una condizione di ripetuto danno alle casse pubbliche un utilizzo in prova del danaro pubblico è evidente che questo non può non essere oggetto di un giudizio politico per quanto mi riguarda sono già stata dai magistrati quindi ho chiarito la mia posizione queste le dichiarazioni dei consiglieri regionali che siamo riusciti a beccare ieri nella tardo pomeriggio poco prima che cominciasse una seduta dell'assise cambiamo argomento diplomi facili per calciatori e attori scoperte due scuole fantasma nel Cilento si tratta di istituti paritari dove si pagava fino a 5.000 euro per conseguire la maturità senza mai frequentare le lezioni sono stati arrestati i titolari dei due istituti denunciate ben 132 persone vediamo sono fabbriche di diplomi centri specializzati nel mettere a posto le carte e fornire titoli senza che il diretto interessato debba compiere alcuno sforzo se non quello di pagare denaro contante e con puntualità ancora un'inchiesta ancora una volta la campagna nel mirino due fratelli titolari di istituti scolastici paritari di Laureana Cilento e Ceraso nel Salernitano sono stati arrestati dalla guardia di finanza nell'ambito di un'operazione denominata scuola e fantasma mentre sono ancora in corso di svolgimento le prove orali degli esami di maturità nuovo blitz anche all'istituto Pacioli di Nola con tensioni tra guardia di finanza e genitori degli studenti impegnati nelle prove i finanzieri hanno anche denunciato 132 persone sequestrato beni per 6 milioni e 600 mila euro il blitz riguarda tutto il territorio nazionale i reati contestati sono di associazione per delinquere interruzione di pubblico servizio truffa ai danni dello Stato e falso continuato il provvedimento spiega una nota delle fiamme gialle è stato emesso nell'ambito di un'indagine che ha portato alla luce le attività criminali di un sodalizio delinquenziale capeggiato dai due fratelli amministratori della società titolare delle parità scolastiche rilasciate dall'ufficio scolastico regionale di Napoli per l'esercizio di istituti per geometri e ragionieri dedito alla commissione di plurimi reati di associazione per delinquere interruzione di pubblico servizio e truffa ai danni dello Stato in cambio di somme di denaro in particolare che si aggiravano tra i 2.500 e i 5.000 euro insospettabili impiegati giovani calciatori e attori in erba riuscivano a conseguire diplomi di ragioniere e geometra senza frequentare le lezioni che venivano solo simulate dai docenti nelle scuole dei due fratelli arrestati dalla finanza gli stessi docenti non percepivano compensi pur firmando le buste paga solo al fine di poter ottenere il punteggio per entrare nella graduatoria gran parte degli iscritti ai corsi risiedevano presso indirizzi di comodo in provincia di Salerno di fatto però erano impiegati e residenti in altre regioni italiane tra cui Lombardia Piemonte Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Lazio Calabria Campania Puglia e Basilicata Tragedia chiedeva scusa chiedeva scusa per il gesto che stava per compiere poi i motivi del suicidio perdonatemi ho perso tutti i miei risparmi per giocare online le due persone il produttore e l'organizzatore del film Hard confessioni private sono stati arrestati dai carabinieri di Salerno su un mandato del GIP perché responsabili di abusi sessuali verso la showgirl Sara Tommasi con l'aggravante di averle fatto assumere cocaina alle indagini dei militari dell'arma svolte anche con intercettazioni su denuncia della stessa Tommasi hanno evidenziato che i due uno domiciliato a Roma e l'altro a Milano approfittando di una fragilità psicologica della ragazza la convinsero nel settembre 2012 a realizzare in un albergo del Salernitano a Buccino un film pornografico somministrandole anche la droga per realizzare le scene sequestrata la pellicola nell'indagine e anche testimonianze dirette di persone sullo stato di salute della showgirl 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Napoli sono state eseguite nei confronti di titolari di aziende e proprietari di terreni tutti gravemente indiziati a vario titolo di realizzazione di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e la gestione di scariche illegali di rifiuti speciali pericolose le indagini hanno appurato l'esistenza di una rete criminale dedita al traffico di rifiuti pericolosi solidi e liquidi che erano stati seppelliti nei terreni della località stazione dell'agro del comune di Cepaloni sepolti sono stati trovati 10.000 metri cubi di rifiuti pericolosi sanitari anche a rischio infettivo mescolati ad altri rifiuti speciali provenienti dai cantieri edili di Benevento Berlusconi e Cosentino sono perseguitati dalla magistratura non lo dice un politico ma un prete anticamorra Don Luigi Merola sentiamo il parroco anticamorra prende voce stavolta per lanciare i suoi strali contro chi con la camorra se la prende anzi prova ad annientarla è Don Luigi Merola per un giorno difensore a spada tratta di Berlusconi e Cosentino proprio così a sentire l'ex parroco di Forcella ospite della Zanzara su Radio 24 pare ascoltare uno di quei parlamentari in quota Popolo delle Libertà che definiscono i magistrati toghe rosse e le inchieste ai danni dell'ex premier una montatura politica e una persecuzione e le parole sono proprio quelle Berlusconi è un perseguitato sottolinea Merola ai microfoni della Zanzara l'ex sacerdote di San Giorgio Emanesi fa pure parallelismi con Clemente Mastella anche lui definito da Merola un perseguitato alcuni magistrati ci va giù duro sono politicizzati e ignoranti devono leggere e studiare di più ci vuole la formazione permanente dopo il concorso Berlusconi aggiunge ancora è un peccatore come tanti altri sono stato a Roma tre anni per lavorare al Ministero dell'Istruzione e dico che quello che fa Berlusconi lo fanno tutti politici di sinistra e di destra alti funzionari e magistrati tutta gente svela il parroco Anticamorra che ha la seconda la terza e la quarta amante da cui si fanno accompagnare con l'auto blu farò nomi e cognomi Berlusconi lo assolvo per il fatto che fa mangiare 80.000 famiglie e la mente corre ai giorni in cui il PDL corteggiava proprio Merola per farlo candidare alle politiche il parroco noto per la sua battaglia alla Camorra dopo l'assassinio della piccola Annalisa Durante stava lì per accettare visto che per il diritto canonico potrebbe e comunque dovrebbe ottenere una dispensa da parte del vescovo della diocesi di appartenenza a mediare si era messo pure il governatore Caldoro ma non se n'è fatto più nulla anche perché nelle liste c'era ancora il nome poi escluso dell'inquisito per Camorra Nicola Cosentino da qui l'altro colpo di scena nell'intervista di ieri leggendo gli atti che riguardano Cosentino ha dichiarato Merola mi sono fatto l'idea che non ci sono le prove per dire che è camorrista e per stare in carcere è immorale e ingiusto che sia in prigione non può inquinare le prove perché si è costituito e il procedimento è chiuso infine l'avversario di Cosentino il PM Henry John Woodcock lo considero di estrema sinistra sbotta il prete ho saputo che è diventato magistrato dopo due bocciature al concorso Woodcock potrà essere preparato sullo sport ma sul diritto deve studiare un po' di più parola di sacerdote siamo sicuramente soltanto al primo atto le parole di Don Merola non mancheranno di far discutere ci saranno sicuramente delle polemiche rispetto a questa presa di posizione non soltanto politica ma di attacco diretto alla magistratura da parte del sacerdote noto per le sue battaglie alla Camorra di Forcella quando era paroco di San Giorgio ai Mannesi cede pensilina dell'ingresso del padiglione e dell'ospedale Cardarelli di Napoli in veste danneggia la parte posteriore di un'autoambulanza parcheggiata nelle vicinanze fortunatamente il mezzo era vuoto e non si sono registrati i feriti il fatto è accaduto intorno alle 15 di ieri il crollo ha riguardato la controsoffittatura sistemata al di sotto della pensilina tutta l'area antistante il padiglione è stato poi sistemato in serata a causa di un albero pericolante è stata parzialmente chiusa al traffico una strada del quartiere Vomero a Napoli la strada chiusa è l'ultimo tratto di via Cimarosa in prossimità di via Morgan la zona è presidiata dalla polizia municipale che da ieri sta deviando il traffico a segnalare la situazione di pericolo i vigili del fuoco i vigili urbani hanno atteso poi l'arrivo di un esperto per valutare le condizioni di staticità dell'albero traffico fortemente rallentato sull'autostrada A1 Napoli-Roma nei pressi del punto blu di Casoria a causa di una manifestazione di protesta questa mattina dei lavoratori dei consorsi di Bacino che si occupano della raccolta di fiuti in agitazione perché da mesi si trovano senza stipendio questa mattina poi davanti a Palazzo Santa Lucia a Napoli la sede della regione Campania era in programma un presidio di lavoratori appartenenti a varie sigle secondo quanto si apprende i manifestanti che hanno protestato sull'autostrada appartengono alla sigla Filal Council e al gruppo dei cosiddetti Desperados spostiamoci a Pomigliano d'Arco un'importante battaglia l'ennesima è stata vinta dal sindacato dei metalmeccanici della sigla FIOM un'altra attacca a favore della FIOM nella lunga battaglia giudiziaria che oramai da tre anni contrappone il sindacato dei metalmeccanici alla FIAT la consulta infatti è dichiarato illegittimo l'articolo 19 dello statuto dei lavoratori nella parte in cui stabilisce che le rappresentanze sindacali aziendali siano consentite soltanto ai sindacati firmatari del contratto la decisione della Corte è stata accolta con grande soddisfazione dal segretario nazionale Maurizio Landini che venerdì scorso aveva portato a Roma le ragioni della FIOM per chiedere il ritorno in fabbrica della democrazia ora può giustamente esultare la Costituzione ha dichiarato rientra in fabbrica è una vittoria di tutti i lavoratori non ci sono più alibi il governo convoca immediatamente un tavolo con la FIAT e tutte le organizzazioni sindacali per garantire l'occupazione e un futuro industriale ora a Pomigliano d'Arco gli iscritti alla FIOM attendono soltanto di poter riprendere l'attività sindacale all'interno dello stabilimento già a novembre scorso ha commentato Francesco Percuoco responsabile del settore auto della FIOM Campania quando 19 dei nostri iscritti furono assunti nella New Co in seguito alla decisione della Corte d'Appello di Roma avevamo fatto richiesta di saletta e bacheca sindacale in fabbrica adesso ribadiremo le nostre richieste all'azienda dall'interno del VICO i sindacati firmatari dell'accordo tra cui FIM CISLA e FISMIC continuano a criticare l'azione della FIOM che a loro dire invece di fare sindacato continua a produrre ricorsi giudiziali che alla lunga danneggiano i lavoratori e parlare di sport e di calcio in particolare restate con noi Rieccoci con lo sport il calcio allora 63 milioni la cifra per poter acquistare Cavani 59 l'offerta del Paris Saint Germain insomma le distanze si assottigliano ed è sempre più vicino l'addio del Matador vediamo tiene sempre banco la vicenda Cavani il calciatore uruguaiano è nel mirino ma fortemente interessato a lui c'è il Paris Saint Germain in questo momento del Paris Saint Germain la squadra francese sembra pronta a fare un'offerta molto vicina al versamento dell'intera clausola recissoria potrebbero arrivare i transalpini a 58 59 milioni in questo caso il Napoli chiaramente porterebbe la squadra francese in pollo per la cessione di Cavani davanti al Chelsea che ha offerto molto meno al City che ha offerto ancora meno e al Real Madrid che una vera e propria offerta non l'ha mai fatta quindi le preferenze di Cavani sono un conto ma senza il versamento della clausola recissoria è chiaro che Cavani deve anche stare a quelle che sono le offerte serie che arrivano a Napoli quella del Paris Saint Germain se vera se confermata sarebbe la prima serie concreta sulla quale il Napoli potrebbe davvero fare un ragionamento vediamo poi cosa farà Cavani ovviamente c'è bisogno anche della sua volontà per concretizzare questa operazione di mercato che può decollare da un momento all'altro il Napoli che già ha intenzione di investire molto sul mercato con la cifra incassata per l'eventuale cessione di Cavani potrebbe andare su calciatori importanti che ancora non hanno trovato una collocazione come Higuain come Geco ma anche come Jovetic che la Juventus non è riuscita a prendere la Fiorentina non ha accettato di sedersi al tavolo di una trattativa che la Juve voleva forzare trovando l'accordo con i calciatori cattivi rapporti fra le due società la ferma posizione della Fiorentina e alla fine il calciatore resta ancora in viola il Napoli però sa che c'è un prezzo e questo prezzo il Napoli lo può pagare a differenza della Juve che non poteva e quindi Jovetic potrebbe diventare un obiettivo serio del Napoli in pochissimo tempo una telefonata dell'Aurentis della Valle potrebbe sbloccare l'operazione in davvero pochi attimi perché c'è un ottimo rapporto anche tra i due patron e le due società per quanto riguarda invece il mercato dei difensori tutti pensavano da storia da un giocatore che potesse arrivare da fuori però il Napoli sta provando a effettuare un sorpasso ha presentato un'offerta pare molto migliore rispetto a quella che ha fatto la stessa Juventus al Torino per Ogbon il giovane difensore Granata potrebbe quindi vestire la maglia azzurra e non quella bianconera anche qui bisogna verificare sempre tutte le volontà quelle del calciatore contano però il Napoli ha sicuramente fatto un'offerta migliore al Torino più vicino a quelle che sono le richieste della squadra Granata anche lì la Juve era andata cercando di sfruttare il suo appeal sui calciatori le sue proposte economiche ai calciatori ma non aveva interpellato e soddisfatto la volontà della società che detiene il cartellino appunto di Ogobona quindi una serie di operazioni che il Napoli sta portando avanti con grande calma forse consapevole della sua forza perché sul mercato il Napoli può investire più di praticamente tutte le altre squadre italiane quindi la posizione attendista è comprensibile e di fronte ai fallimenti di alcune operazioni di altri club il Napoli può inserirsi e chiudere rapidamente questo spera Benitez che vorrebbe i giocatori agli più graditi e soprattutto spera di averli in tempo utile per il ritiro precampionato che ormai si avvicina e vediamo se ci saranno novità nelle prossime ore ve ne daremo conto nell'edizione delle 19.30 quando 8 News tornerà puntuale come sempre grazie intanto per essere stati con noi a tutti voi un buon pomeriggio